Nuovo provvedimento della Corte d'Appello eseguito nei confronti di Paolo Rao, il 35enne condannato con l'accusa di aver ucciso a coltellate la compagna nell'ottobre del 2012 nel loro appartamento di via Canestrini a Padova. L'uomo, attualmente agli arresti domiciliari, ha avuto una riduzione della pena da 16 a 12 anni e rimarrà ospite di una struttura protetta a Campo San Piero fino al febbraio del 2020.